Regne, sole, monache Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da Laveglia e Carlone. Carlone. Carlone, io ho sempre difficoltà a leggere. Il titolo è Il breviario messale di Salerno del Museo Leone di Vercelli a cura di Maddalena Vaccaro e Gionata Brusa a quali io come mi abitudine non rubo tempo e lascio subito la parola a Gionata Brusa perché ci parli di questo messale molto interessante. Prego a lei. Salve, buongiorno. Allora, il volume di saggio appunto è nato dalla scoperta di questo manoscritto che è una storia anche a sé, nel senso che è stata una scoperta fortunata. Io sono abituato a studiare manoscritti a Vercelli e per una volta sono andato al Museo Leone di Vercelli a individuare manoscritti che avevo per sentito dire che c'erano. e sfoglia manoscritti ho trovato questo splendido breviario massale al quale appunto è dedicato il volume. È un codice straordinario e la sua importanza con l'andare del tempo è fuoriuscita anche grazie a parlare e a comunicazioni avute con Thomas Kelly e Luisa Nardini che sono due dei contributi all'interno del volume. Il manoscritto è un breviario messale e quindi per la tipologia dei manoscritti liturgici è un manoscritto che contiene tutto il necessario per la celebrazione della messa, messale, e dell'ufficio breviario. In più, ed è questo un surplus eccezionale, ci sono delle lunghissime rubriche descrittive di ciò che avveniva in cattedrale durante quei riti e questa è l'estrema importanza. Il manoscritto è databile nel senso che ci sono diversi punti in cui si riferisce all'arcivescovo Romualdo II Guarna quindi siamo attorno agli anni 1170 ed è anche facilmente individuabile e lequalizzabile in quanto, oltre appunto alla menzione del Guarna, ci sono diverse rubriche in cui viene esplicitamente riferito all'uso della chiesa salernitana. Cosa è importante in questo manoscritto? Finora si conoscevano solo codici molto più tardi di Salerno, messali e breviari, che sono stati studiati da Tomaschelli. Tomaschelli aveva ipotizzato che ci fosse stata una riforma liturgica a Salerno all'epoca di Romualdo II Guarna, ciò tramite i codici più recenti. La scoperta del codice di Vercelli conferma l'ipotesi di Tomaschelli, quindi che era avvenuta una sorta di riforma liturgica. Cosa è importante in questo manoscritto? È importante il fatto che vi sono tre dinamiche all'interno studiandolo. Una prima è un sostrato beneventano. Salerno apparteneva al Ducato di Benevento Salerno e quindi furiescono delle particolarità proprie della liturgia salernitana. In secondo luogo è un codice che rifletta l'arrivo dei normanni a Salerno, perché vi sono un ufficio liturgico soprattutto di San Pietro, sui Vincolapietri, e alcuni canti inseriti in particolari zone del manoscritto che riflettono la liturgia di manoscritti della Francia del Nord e inglesi. E quindi chiaramente il passaggio deve essere avvenuto tramite la Sicilia e normanni. Un terzo elemento importante è quello delle tradizioni locali, ovviamente, di ciò che è proprio a Salerno. E quindi questo manoscritto ha dato la possibilità, ad esempio, di ricostruire parzialmente l'ufficio di San Matteo Apostolo, che è il patrono della cattedrale di Salerno. Questo ufficio era conosciuto solo in fonti del 1560, senza musica. Tramite questo messale siamo riusciti a ricostruire una parte dell'ufficio, l'odi e vespri, con in più la musica. Quindi ora si potrebbe nuovamente cantare questo, almeno parzialmente, l'ufficio di San Matteo Apostolo. Un altro elemento importante, appunto, in questa dinamica tra questi due mondi, beneventano e quello normanno, sono i due livelli di scrittura di questo manoscritto. Da una parte la scrittura testuale, quindi il testo, è in una protogotica, o come vogliamo chiamarla, in una tarda carolina, con accenni angolosi, quindi che riflette molto i codici del nord della Francia. Ma dall'altra abbiamo una notazione musicale che è molto simile a quella dei codici beneventani, che è una notazione musicale propria di quell'area. E quindi anche in questo caso troviamo queste due forze, queste due dinamiche, all'interno di questo manoscritto, una con l'altra. Altri elementi ovviamente sono la presenza di particolari canti, oltre all'ufficio di Matteo. Ad esempio ci sono alcune antifone per gli altri santi patroni di Salerno, che sono Gaio, Fortunato e Anzio, se mi ricordo bene, Maddalena, che ho sempre un problema nel nome. Oppure abbiamo un elemento interessantissimo, è la presenza dell'ufficio, o almeno parziale, di Sant'Ambrogio di Milano. E quindi anche in questo caso abbiamo un'ulteriore dinamica sull'asse della liturgia ambrosiana, beneventana e salernitana. Quindi queste, in poche parole, secondo me, sono gli elementi veramente importanti di questo manoscritto, che credo porteranno ulteriori informazioni per lo studio non solo della liturgia e della musica di Salerno, ma per l'intero repertorio del Sud. Italia. E con questo direi che posso passare la parola a Maddalena, che invece parlerà della materialità. Sì, allora, grazie Jonathan per questa parte preliminare, perché consente a tutti di avere un'idea del contenuto più specifico, testuale, liturgico e musicologico di questo manoscritto, che è un manoscritto molto consistente, perché se non sbaglio, sono più di 490 foli, che quindi con una consistenza, recto e verso, quindi il contenuto è davvero ricchissimo. e questa apertura sul Sud Italia è un'idea che è fondamentale proprio per collocare il manoscritto nel suo contesto di produzione. proprio per interrogare il manoscritto c'è una serie di problematiche che aprono, che connettono il manoscritto non solo a questioni specificamente liturgiche, ma anche al panorama storico-artistico che supera il formato del libro. Innanzitutto la produzione di questo che è un socialista, manoscritti, e ha studiato in Nord Italia, e dopo aver studiato i manoscritti del Museo Diocesano, ha potuto consapevolmente indagare anche il breviario messale. Il breviario messale, appunto, anche dal punto di vista della produzione artistica, si colloca appunto negli anni 70, ma del XII secolo, e probabilmente la sua produzione deve essere collegata a quel sistema di rapporti con la Sicilia che aveva consentito a Romualdo Guarna di far arrivare anche persone che potessero scrivere e decorare il manoscritto anche cogliendo degli stimoli che arrivavano dalle aree francesi, e questo è stato compreso studiando i colori. La cosa però importantissima per uscire dall'oggetto libro sono proprio quelle rubriche lunghe che eccezionalmente caratterizzano il testo del manoscritto. E grazie a queste lunghissime rubriche è stato possibile per me come per altri storici dell'arte riflettere su quelli che si chiamano gli arredi liturgici della cattedrale di Salerno, ovvero tutte quelle opere d'arte che noi oggi percepiamo come opere d'arte per la loro qualità, ma che sono parte del funzionamento dell'edificio medievale. La cattedrale di Salerno è un edificio che è stato costruito a partire dal 1080 circa, è un lunghissimo cantiere che dura diversi decenni, è stato consacrato in realtà dopo pochi anni, da Gregorio VII nel 1084, quindi dal Papa che tutti conosciamo, e però il cantiere, sia il cantiere architettonico che il cantiere relativo agli arredi sacri dura negli anni successivi. E la cosa straordinaria è che gli edifici sacri sono degli edifici vivi e quindi seguono nelle loro trasformazioni la vita anche liturgica di quello che compie la popolazione, la comunità ecclesiastica all'interno della cattedrale. E il manoscritto, il breviario messale di Vercelli è stato fondamentale per comprendere proprio la produzione di alcune di queste sculture e mi riferisco in modo particolare agli amboni che noi oggi vediamo, sono delle opere di elevatissima qualità scultorea che hanno posto un problema per la loro presenza perché oggi noi vediamo queste due strutture ai lati della navata centrale e gli storici dell'arte per molto tempo hanno dibattuto sui committenti e sul periodo di produzione perché si pensava fossero molto ravvicinati e che potessero funzionare insieme secondo uno schema che in realtà è dettato dalle esigenze post-teridentine in realtà questo manoscritto io di solito dico è stato un piccolo tsunami per la cultura e l'arte salernitana perché effettivamente ci ha dato un'informazione eccezionale che è quella della presenza di un pulpitoligno un pulpitoligno che evidentemente quando era vescovo Romualdo doveva essere presente e che però con le continue committenze è stato poi dismesso per produrre delle nuove strutture e allora la comprensione di queste dinamiche ha consentito non solo di comprendere meglio il caso salernitano che per l'occasione è stato indagato da me ma anche tutta una serie di problemi correlati e connessi ad altri territori come quello che avviene nella produzione degli arredi sacri in Campania che è stato studiato da Elisabetta Scirocco il rapporto che questa produzione artistica ha nei confronti con Roma Roma intesa come città papale con delle chiese che sono ad uso specifico del pontefice che è un tema che è stato indagato da Manuela Gianandrea e però abbiamo voluto estendere queste problematiche anche a dei temi molto connessi uno dei temi che sono sempre più difficili da indagare ma certamente molto interessanti è il problema tra Salerno e Monte Cassino che è stato indagato da Ruggero Longo ma anche problemi rispetto a elementi culturali sorprendenti nella comunità salernitana che sono l'elemento greco ovvero la presenza di persone ma anche persone consacrate di cultura greca che è un problema che è stato indagato da Antonino Blanchina e anche il problema del rapporto con la comunità ebraica perché fin dal decimo secolo nella città di Salerno la comunità ebraica ha un ruolo importantissimo molto probabilmente dettato dai commerci col mare quindi da un ruolo che nella città è molto attivo e questa presenza così radicata nella città è una presenza che ha una lunga durata tant'è che questo manoscritto il breviario messale proprio grazie alle sue rubriche è stato possibile metterlo in rapporto con i manoscritti più tardi citati anche da Jonathan prima e in modo particolare con il sacramentario pontificale del museo diocesano di Vercelli che ci attesta riporta quest'uso che avveniva in occasione della festa della traslazione di Matteo quindi il 6 maggio in cui l'arcirescovo sostanzialmente si sedeva su una sedia appositamente preparata al di fuori dell'acchio della cattedrale e accoglieva i rappresentanti della comunità ebraica che avrebbero donato all'arciresco in modo simbolico la legge che non è tanto il tema è stato indagato da Giancarlo Senza che è uno specialista di cultura ebraica e ci giustamente ci sottolineava che questo non è un atto di sottomissione ma è proprio un atto con cui si celebra anche una sorta di lunga collaborazione di lungo rapporto tra le diverse componenti culturali proprio della società salernitana allora la cosa importante di questo libro e del lavoro che con Jonathan abbiamo voluto fare è un che è un lavoro che va oltre questi problemi che noi abbiamo menzionato perché tocca anche problemi storico-politici istituzionali dei problemi di ampio respiro ma il lavoro che noi abbiamo voluto fare è stato proprio quello di aprire questo manoscritto sfogliare le pagine e sulla base dei problemi che il manoscritto a noi poneva abbiamo cercato di interpellare gli specialisti migliori rispetto ai problemi che il manoscritto poneva in modo tale da dare proprio una risposta a delle domande di certo non abbiamo la pretesa di aver trovato tutte le chiavi di interpretazione che non sono le chiavi di interpretazione di un manoscritto ma sono delle chiavi di interpretazione di un mondo che è un mondo che a noi apparentemente può sembrare molto lontano per la distanza nel tempo ma è un mondo con cui ci si può mettere sempre costantemente in dialogo e certamente ciò che alimenta questo rapporto con l'oggetto libro e con la cultura medievale in tutte le sue sfaccettature è proprio la nostra capacità di porre delle domande e quindi mi sento di dire molto probabilmente condividendo anche il pensiero di Jonathan che questo libro vuole ora che viene finalmente stato dato alle stampe e comincia a essere distribuito vuole essere proprio una sorta di problema che si pone agli altri e ognuno di noi per quello che potrà fare potrà continuare a porre delle domande per continuare a indagare queste realtà che sembrano appunto molto distanti sono molto complesse ma sono certamente molto affascinanti da continuare a interrogare quindi anche io mi fermo qui non so se Jonathan vuole aggiungere qualcos'altro perché in questi anni noi abbiamo fatto veramente un lavoro fondato innanzitutto sul dialogo tra di noi e con i colleghi che hanno lavorato con noi quindi Jonathan non so se vuoi dire qualcosa anche da parte mia comunque avendo individuato tutte le varie problematiche che ho solo accennato prima quindi ho cercato tra i vari colleghi chi potesse rispondere meglio alle domande ad esempio tra il rapporto tra l'Ambrosiano Beneventano Solernitano con Angelo Rusconi problematiche del rapporto del manoscritto della cultura solernitana con altri centri del sud Italia quindi abbiamo chiesto a Bibiana Vergine cosa riguardasse ad esempio il repertorio degli inni Luisa Nardini con il canto neo-gregoriano e le prosule Thomas Kelly che aveva già lui per primo individuato le caratteristiche e peculiarità della liturgia solernitana poi abbiamo cercato anche il rapporto dei santi dei santi stessi di Salerno con altri centri del sud Italia e quindi abbiamo chiesto un un contributo a Nicola Tangari e così via il rapporto tra il romano antico questo è molto più settoriale romano antico cultura greca e Salerno a Oliver Gerlach e così via abbiamo cercato anche di interpellare il meglio che si potesse per quanto ci riguarda la nostra conoscenza per ciascuna domanda liturgica artistica e storica che questo manoscritto portava in sé per la paleografia forse dobbiamo certamente ricordare anche il coinvolgimento di uno dei maggiori studiosi di paleografia beneventana che è Francis Newton che chiunque abbia mai incrociato problematiche del sud Italia conoscerà perché è persona veramente competente e ormai conoscitrice del mondo beneventano forse più di tante altre persone e però è stato affiancato per altri aspetti ad esempio da altri colleghi paleografe come Maria Galante e Giuliana Capriolo che tra l'altro sono colleghe mie presso l'Università di Salerno e proprio l'Università di Salerno ha dato un grosso contributo in termini non solo di supporto a tutto il progetto supporto istituzionale supporto finanziario perché il libro è stato pubblicato dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale a cui io afferisco ma anche proprio in termini di persone di competenze perché hanno contribuito anche gli storici che hanno lavorato al volume come Amalia Galdi e Mario Luffredo che hanno studiato più le parti istituzionali e proprio per le parti istituzionali abbiamo coinvolto anche Mariano Dell'Omo che è archivista di Monte Cassino e che ben conosce il mondo cassinese e poi anche giovani studiosi tra cui è necessario sicuramente ricordare così credo di avere menzionato quasi tutti Antonio Antonetti che ha lavorato proprio sulle istituzioni e d'altra parte sempre per parte musicologica Giulio Migniti in tutto questo non abbiamo ancora menzionato ma è doverosissimo menzionare le persone che vivono tutti i giorni la realtà del Museo Leone di Vercelli e sono il conservatore Luca Brusotto e Riccardo Rossi che hanno proprio fatto un piccolo contributo sulle vicende avventurosissime c'è da dire della vendita di questo manoscritto che appunto è a Vercelli ma perché è stato comprato sul mercato antiquario napoletano e quindi il il manoscritto oggi dobbiamo ricordare che è proprio custodito dal Museo Leone di Vercelli che ne è proprietario e che molto generosamente ha sempre messo a disposizione il il manoscritto per lo studio per le riproduzioni fotografiche che sono servite ai fini di ricerca questo ruolo delle istituzioni è importantissimo come importantissimo ruolo che ha avuto negli anni il Museo Diocesano San Matteo di Salerno che è il custode degli altri manoscritti che oggi si conservano presso la presso gli gli enti culturali del della cattedrale salernitana e quindi in tutto questo è sempre un sembra una postilla di cortesia ma in realtà un ringraziamento molto sentito e sincero perché la nostra ricerca quotidianamente non potrebbe andare avanti se non avessimo a nostro lato queste istituzioni che ci consentono di lavorare lavorare anche con gruppi così estesi di persone e infine ringraziamo tutto lei Maurizio e l'Italia medievale per questa occasione di presentazione che sicuramente può dare una bellissima visibilità a questo lavoro corale bene io vi ho ascoltato con un'enorme attenzione perché questo è davvero un libro importantissimo per tutta una serie di ragioni perché attraversa la scrittura la musica la storia la liturgia quindi è veramente qualcosa di molto molto interessante io ricordo il titolo che è il breviario messale di Salerno del Museo Leone di Vercelli che è stato presentato da Maddalena Vaccaro e Jonathan Brusa io fra l'altro invito tutti ad andare al Museo Leone di Vercelli perché una visita merita assolutamente l'attenzione di tutti gli appassionati ringrazio i nostri due ospiti per aver accettato il nostro invito e ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube grazie ancora e a presto grazie 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 per l'attenzione preglie preglie sole monate Grazie a tutti